Benvenuti, siamo con la professoressa Anna D'Aurea, già segretaria nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa, già docente scolastico e insegnante della scuola primaria. Benvenuta professoressa. Buongiorno, grazie per l'invito. Professoressa D'Aurea, le parole da parte del Ministro di un nuovo cambiamento del modello di valutazione per la scuola primaria ha creato un fermento nel mondo della scuola. Il vostro movimento si è posto fin dall'inizio a favore dell'attuale sistema di valutazione, più descrittivo. Cosa vi ha spinto a tale scelta e quale ritenete siano i punti di forza di questo tipo di valutazione? Bene, la prima cosa è in qualche modo inquadrare cos'è il Movimento di Cooperazione Educativa. Noi siamo un'associazione di insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, siamo nati nel 1951, quindi praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale con una società civile tutta da costruire ed una scuola fortemente selettiva, fortemente classista. Quindi ai pionieri del nostro movimento è stato subito chiaro che bisogna intervenire anche sulla valutazione. Lei pensi che ancora nel 68 Bruno Ciarri scriveva che il 25% dei bambini di prima e seconda elementare, dai dati Istat, erano stati bocciati nel 1968, erano stati bocciati con un brevissimo tempo in cui la scuola avrebbe potuto fare la differenza tra le condizioni di ingresso e quelle di uscita, ma questo non era stato proprio perché la funzione sociale che si attribuiva alla scuola era quella di selezionare, non certamente quella di rimuovere gli ostacoli, così come la nostra Costituzione stabilisce. Da qui l'attenzione alla valutazione, perché è proprio la valutazione quello spazio all'interno del quale si sviluppa il rapporto tra una scuola e Manci che si impegna a rimuovere gli ostacoli e una scuola che invece normalizza le differenze di ingresso, che ancora accade. Se noi osserviamo come funziona l'orientamento nella scuola secondaria di primo grado, ci rendiamo conto quanto la geografia di nascita e le condizioni socio-economiche di partenza di ogni ragazzo o ragazza diventino in qualche modo predittive del destino scolastico. Questo significa che la scuola non è riuscita a fare la differenza. Noi crediamo che molto sia giocato dal tipo di valutazione che sicuramente fa riferimento ad un tipo di didattica, ad una valutazione selettiva, corrisponde a una didattica trasmissiva, quella che Freire definitebbe una didattica depositata, mentre ad una valutazione formativa, che centrata non sui risultati dell'apprendimento, ma sul processo per far sì che tutti possano arrivare a quei risultati, fa riferimento ad una didattica di tipo emancipativa, una pedagogia dell'emancipazione, in cui tutti e tutti possano trovare nella principale istituzione della Repubblica, la scuola, un progetto di crescita, di formazione, affinché tutti i potenziali di cittadinanza possano essere espressi da parte di tutti e di tutte. È ovvio a questo punto che il Movimento di Cooperazione Educativa ha lavorato tantissimo insieme a tutte le altre associazioni professionali al mondo dell'università nella stagione delle grandi riforme, quando con la legge 517 si ebbe l'abolizione del voto e l'introduzione dei giudizi descrittivi. Questa legge ha avviato un percorso molto importante per la scuola italiana di democratizzazione, fu introdotta la programmazione educativa, vennero eliminate le classi speciali e praticamente tutto quanto il processo valutativo ha subito dei cambiamenti in corso d'opera fino a fermarsi in maniera repentina con la riforma Gelmini del 2008. A quel punto tutte le associazioni che lavorano per una pedagogia democratica si sono impegnate a far sì che venisse rivista la norma sulla valutazione e hanno organizzato delle campagne voti a perdere. La prima nel 2015 e la seconda poi nel 2019 dove un percorso di ricerca fatta con l'Università Milano Bigocca sulle pratiche valutative di scuole provenienti di diversi territori del nostro paese e dove si confrontavano le esperienze facemmo poi un convegno e in quel convegno lanciamo la seconda campagna voti a perdere. Per cui è ovvio che nel 2020 quando c'è stata l'abolizione dei voti e è stato dato l'incarico a una commissione di redigere un'ordinanza ministeriale per un nuovo tipo di valutazione noi siamo stati ben felici di accogliere la 172 l'ordinanza ministeriale 172 questo perché? Perché l'ordinanza ministeriale 172 finalmente reintroduceva e forse per la prima volta un approccio al processo valutativo perché rendeva trasparente il rapporto esistente tra la programmazione didattica cioè tra il lavoro che l'insegnante il percorso che l'insegnante progetta per quel bambino per quella classe e i criteri di valutazione in quanto appunto l'ordinanza stabilisce che vengono indicati nella scheda di valutazione gli obiettivi di apprendimento e in relazione alle diverse dimensioni dell'apprendimento che sono delle dimensioni evolutive perché dire dire praticamente che il bambino mostra delle evidenze d'apprendimento con risorse note o non note in maniera continua in maniera autonoma o non autonoma significa in qualche modo porre lo sguardo pedagogico su quella che è la crescita e lo sviluppo e l'apprendimento di quel bambino non focalizzandosi unicamente sul risultato e inoltre per rapportare la valutazione dell'apprendimento alle dimensioni significa anche avere un territorio di confronto cioè per rendere la valutazione un processo intersoggettivo perché sappiamo che nella valutazione non c'è niente di oggettivo in quanto è costantemente condizionata contaminata dallo sguardo di chi osserva insomma questo ce lo dice anche la fisica figuriamoci se non ce lo dice la docimologia ecco per questo noi abbiamo insomma siamo stati ben felici di accogliere questa ordinanza e il movimento di cooperazione educativa insieme ad altre associazioni hanno lavorato tantissimo in questi tre anni per attivare percorsi di formazione con gli insegnanti per stimolare la ricercazione necessaria a introdurre dei cambiamenti nella cultura valutativa non soltanto degli insegnanti ma anche dei genitori e in generale nel paese ecco a tal proposito il ministro ha annunciato il ritorno di una valutazione sintetica affermando che sia più comprensibile per i genitori lei ci ha spiegato un attimino tutte le evoluzioni ma cosa richiede che non abbia funzionato al meglio in questi anni da portare diversi esponenti a queste conclusioni beh intanto noi dobbiamo come dicevo prima la valutazione praticamente è lo spazio all'interno del quale si realizza o una scuola che emancipa che si pone come obiettivo l'emancipazione di tutte e di tutti o una scuola che invece seleziona probabilmente cambiata la compagine politica praticamente il modello di scuola che è nell'idea di questa maggioranza di governo è quella di una scuola meritocratica di una scuola selettiva Andrea Carnevaro diceva quando si parla del merito bisogna capire che cosa si intende per merito perché se il merito significa riconoscere quanto sanno già fare quelli che arrivano a scuola provenienti da condizioni socio economiche e culturali già favorite insomma per noi questo non è assolutamente merito e è ovvio che a questo punto insomma dobbiamo dobbiamo riconoscere che il cambio culturale previsto dall'ordinanza ministeriale 172 il cambio pedagogico dei processi valutativi richiedeva un'attenzione un investimento maggiore in formazione la commissione ministeriale ha fatto tanto perché hanno avvicinato circa 160.000 docenti con le formazioni hanno formato 300 formatori che a cascata dovevano poi supportare le scuole ma di fatto questo processo non è stato mai effettivamente diciamo curato attenzionato con degli investimenti mobilitando i 300 formatori che potevano andare delle scuole quindi c'è stata da questo punto di vista diciamo poco scarso impegno a questo poi va aggiunta anche un'altra cosa che l'impressione che praticamente oggi si tende a pensare che la legge debba soddisfare anche il bisogno che la valutazione si fa per i genitori non è così è ovvio che i genitori in una realtà già difficile perché la scuola vive condizioni difficili possono aver non avuto in maniera chiara quelli che erano i cambiamenti i cambiamenti dovevano essere ulteriormente sostenuti si doveva dare continuità ai cambiamenti si dovevano coinvolgere le famiglie ma in ogni caso tutto questo richiede assolutamente coerenza e poi un'altra cosa che vorrei dire rispetto a questo è che noi non possiamo dimenticare che praticamente dagli anni 90 viviamo accanto più o meno ad un carattere selettivo della scuola che non è stato mai completamente abbandonato però accanto negli anni 90 ci sono nei nostri processi culturali valoriali ed economici che hanno fatto penetrare nel discorso pedagogico e anche nella scuola lo spedito concorrenziale e competitivo tipico delle società neoliberaliste e questa idea qui è ovvio che è penetrata purtroppo anche in molti insegnanti è penetrata anche in molti genitori che vedono nel vuoto qualcosa di più giusto il voto che classifica o anche giudizio sintetico che mortifica pensiamo al ministro valditara che pensa di poter valutare un bambino di scuola primaria semmai un bambino di scuola primaria al suo primo ingresso a scuola imprime elementare con un gravemente insufficiente che comunicazione è questa e come si colloca questo tipo di comunicazione nel sentire di un bambino nel sentire di un genitore e nella crescita del sentimento di autoefficacia del bambino della sua motivazione ad apprendere insomma che sono elementi indispensabili affinché possa sentirsi dentro a un processo e dentro a un'alleanza con l'insegnante il bambino e praticamente anche i genitori con la scuola quindi noi riteniamo che questo sia una scelta regressiva che fa tornare indietro la scuola non a caso il documento che abbiamo scritto interassociativo è non fateci tornare indietro ecco è un grosso un grosso a tal proposito il 15 aprile ci sarà una manifestazione a sostegno dell'attuale sistema di valutazione alle quali hanno diritto diverse sive sindacali e associazioni del mondo della scuola cosa vi ha spinto a questa mobilitazione? intanto diciamo la voglia di continuare con un discorso che è iniziato come le dicevo prima nel 2008 occorre tener conto che le associazioni firmatarie di questi documenti sono completamente diverse cioè rappresentano tutto un osservatorio estremamente significativo e rappresentativo di educatori insegnanti genitori dirigenti scolastici che sono attivamente impegnati in tutti i segmenti dell'istruzione e sono soprattutto presenti su tutto il territorio nazionale però sono associazioni che hanno storie identità diverse ma che si ritrovano nel condividere la stessa idea di scuola che è l'idea della Costituzione è l'idea di Calamandrei di scuola come organo centrale della Repubblica di scuola che venga messa in grado di operare per la rimozione degli ostacoli per liberare le intelligenze di tutti e di tutti attuando il diritto all'apprendimento quindi dal 16 al 18 aprile ci sarà il voto in aula sugli emendamenti proposti dal governo e inquadrati nel disegno di legge sul voto di condotta ecco noi prima del 16 come ultimo tentativo per parlare con i nostri parlamentari per parlare con il governo abbiamo inteso raccogliere e mobilitare quanti con noi tengo che non sia possibile interrompere un processo avviato appena tre anni fa e non sia possibile in primis perché non c'è motivazione pedagogica non è che il ministro o altri del governo si sono appellati ad una ricerca hanno monitorato i risultati di questo processo e alla fine ci dicono non funziona no non è stato fatto questo lavoro non c'è stata interlocuzione col mondo dell'università e della ricerca perché la ricerca accademica ci dice che voto e giudizio sintetico non migliorano assolutamente gli apprendimenti quindi non è questa la motivazione in più praticamente non si tiene conto del fatto che insegnanti dirigenti scolastici genitori per tre anni si sono impegnati in un percorso di cambiamento che adesso viene reso completamente vano e ancora una volta la scuola e chi abita la scuola cioè rimane ostaggio di riforme incompiute e questa cosa credo la scuola per la fragilità che vive e per le emergenze educative del paese che tutti dovremmo affrontare con grande lucidità con grande coerenza e con grande cooperazione praticamente non possa vivere un'ulteriore defaianza di questo tipo cioè ci eravamo immessi in un progetto di cambiamento positivo per la scuola positivo per il paese che adesso viene interrotto insomma che credibilità gli stessi insegnanti gli stessi genitori potranno dare agli ulteriori cambiamenti che interverranno nel futuro ecco queste sono le preoccupazioni che uniscono tutte quante le associazioni firmatari del documento che hanno organizzato questa iniziativa ecco l'ultima domanda ma no voglio dire soltanto questo che questa iniziativa coinvolgerà presidi distribuiti su tutto il territorio nazionale e di insegnanti di scuole di docenti universitari di genitori proprio perché vorremmo essere ascoltati vorremmo essere ascoltati dal ministro Valditara e dai parlamentari che hanno approvato l'emendamento presentato dal governo ecco chiudiamo con un'ultima domanda tenuto conto della bontà della valutazione di iscrittivo ma che comunque ci sono state delle criticità emerse da affrontare qual è la vostra proposta per superare questi lati negativi? guardi le criticità sono state soprattutto il mancato investimento in formazione del resto si è ripetuto quanto è stato fatto anche con le indicazioni nazionali noi abbiamo un documento assolutamente attuale è validissimo per il quale c'è stato scarsissimo investimento nelle scuole ecco ad esempio l'ordinanza ministeriale 172 finalmente aveva permesso anche alle scuole di rivedere le indicazioni nazionali e di fare un lavoro sul curriculum verticale quindi quello che si deve fare è lavorare molto sulla formazione l'altra cosa anche è che bisognerebbe lasciare più libere le scuole autonome perché sicuramente alleggerire tutto il percorso valutativo soprattutto nella prima frase di accesso a scuola in prima e in seconda elementare prevedendo la possibilità che i collegi decidano per una valutazione così come prevista dalla 172 a fine anno scolastico o a fine biennio potrebbe sottrarre la percezione di praticamente di qualcosa di complicato dare più tempo agli insegnanti dare più tempo alle famiglie per acquisire gli elementi di questo cambiamento e gli strumenti per una valutazione formativa ecco questo occorre dare più fiducia alle scuole occorre dare più fiducia agli insegnanti e soprattutto lavorare con una visione chiara di scuola con degli investimenti che si fanno per modificare e intervenire su quelle condizioni strutturali e pedagogiche che impediscono alla scuola di lavorare all'interno di un clima più favorevole più insomma che valorizza il lavoro degli insegnanti la partecipazione dei genitori il benessere di bambini e bambine grazie professore grazie a voi grazie a voi grazie a voi